Buonasera a tutti ragazzi, qui è Mr. Lob dal Minerva Studio e stasera parliamo ancora di autotune ritornello e in particolar modo stasera vediamo come creare velocemente delle armonie con l'autotune senza ricorrere a metodi quali Melodyne, Wavetune eccetera eccetera in maniera molto veloce Allora, il brano in questione è Se ci ripenso di Andrea tolgo la catena in maniera tale che poi ve la spiego per benino Se ci ripenso, se ci ripenso, non ci avrei mai pensato sai se ci ripenso, se ci ripenso, se ci ripenso, se ci ripenso Se ci ripenso, non ci avrei mai pensato sai se ci ripenso, se ci ripenso, se ci ripenso, se ci ripenso, sorrido ogni volta che mi guardo a te Se ci ripenso, non ci avrei mai pensato né se ci ripenso, se ci ripenso, non ci avrei pensato Ok, ora vi faccio vedere veloce veloce la catena ve la spiego in maniera veloce così poi andiamo nell'argomento clue della lezione Allora, il primo plugin che ho messo in catena è il Saturn di FabFilter perché prima di iniziare a fare qualsiasi trattamento a me piace dare verità alle cose. In questo caso un po' di saturazione, un po' del colore di nastro che ricorda quel mondo analogico fa sempre bene. Vedete, è molto leggera, un 20%. Non ci avrei mai pensato, sai, se ci ripenso, se ci ripenso, se ci ripenso, da quel carattere granuloso del nastro che fa tanto bene. Poi, un'equalizzazione semplice, un'equalizzazione sottrattiva. Ci sono le S che danno fastidio, per cui ho tagliato un dB giusto per smussare un pochino le S. Un taglio qui nelle medie e un dB e mezzo nelle basse. Se ci ripenso, non ci avrei mai pensato, sai, se ci ripenso, se ci ripenso, se ci ripenso, sorrido ogni volta che mi guardo adesso. Ok, voce più educata, poi compressione. Se ci ripenso, se ci ripenso, non ci avrei mai pensato, sai, se ci ripenso, se ci ripenso, se ci ripenso, sorrido ogni volta che mi guardo adesso. Questo Arcom, Arcom, Arvox qua, vabbè Arcom mi sono confuso, ma comunque è della stessa famiglia. Praticamente cosa fa? Va a smussarmi i picchi, perché se voi fate caso all'onda è abbastanza dinamica. Ma voglio mantenere questa dinamica, non voglio assolutamente in questo caso buttarla troppo giù. Perché altrimenti verrebbe un ritornello piatto che è fuori anche dall'interpretazione del cantato. Infatti Andrea ha appositamente creato dinamica all'interno del ritornello ed è bello lasciarla. Per cui questo Arcom, Arvox, mi serve solo per smussare i picchi e dare un po' più di presenza alla voce. Se ci ripenso, se ci ripenso, non ci avrei mai pensato, sai, se ci ripenso, se ci ripenso, se ci ripenso, se ci ripenso. Autotune. Sol minore, è il brano. Autotune classico, abbastanza pronunciato, siamo intorno agli otto di Retro Speed. Sorrido ogni volta che mi guardo adesso. Se ci ripenso, se ci ripenso, non ci ripenso. Ok, molto semplice. Poi per concludere ho messo questa Channel Strip della Waves. Non ci avrei mai pensato, sai, se ci ripenso, se ci ripenso. Quello che ho fatto è che ho dato un po' di compressione con un attacco veloce e un rilascio pure abbastanza veloce. Per dare ancora di più presenza alla voce, proprio farla sedere bene nel mix, ho aggiunto intorno a 5 dB sui 16 kHz, proprio in alto, per dare più brillantezza e più presenza alla voce. E poi non ho fatto più niente. Solo quel piccolo interventino lì. Se ci ripenso, sorrido ogni volta che mi guardo adesso. Sentite così come la voce è più presente, è più aperta. Se ci ripenso, se ci ripenso, non ci avrei mai pensato, sai, se ci ripenso, se ci ripenso, e se ci ripenso, sorrido ogni volta che mi guardo adesso. Se ci ripenso, se ci ripenso, non ci avrei mai pensato, sai, se ci ripenso, se ci ripenso, ok catena molto semplice niente di complicato ora andiamo alle nostre doppie quello che ho fatto poi è stato duplicare la voce lead principale e creare delle armonizzazioni la catena è esattamente la stessa quindi non la rispiegheremo ci sono solo aggiunte delle piccole cose che ora andremo a commentare allora prima cosa facciamo così spegniamo fin qua è la stessa catena l'unica cosa che ho fatto è nel lato di un qua ragazzi c'è la possibilità di trasporre la traccia quindi in semitoni ovviamente per cui la prima cosa che ho fatto è ho creato un intervallo di quarta ok ok molto semplicemente quindi rimanendo con gli stessi setup ho preso la due tune e ho trasposto la mia voce di 5 semitoni poi cosa ho aggiunto ho aggiunto un fabfilter saturn per dare un po di saturazione ma in questo caso molto prolungiata proprio la distorsione valvolare delle valvole perché è una distorsione molto più dolce rispetto sia quella del nastro che a quello dei componenti è stato solido quindi ho voluto mantenere questa sorta di distorsione dolce però aggiungere carattere e dare personalità a questa propria ping pong delay per creare un po di atmosfera intorno che l'idea è il ritornello lead principale che resta fermo e il resto che gli gira intorno e poi ho creato un po di ambiente con ora qui ho lasciato 20 millisecondi di pre delay non ho voluto proprio togliere il pre delay perché mi serviva a creare una sorta di spazio dietro quindi c'è la voce doppiata avanti è un po di pre delay che gli da una sorta di dimensione verso dietro perché ricordatevi che quando si mixa ragazzi si mixa in sei direzioni destra sinistra avanti dietro e poi dietro gli speakers ok quindi e poi ce n'è anche un'altra che sarebbe giù su però diciamo che principalmente sono queste sei quindi dobbiamo giocare anche incastrando queste dimensioni ovvero dobbiamo decidere la lead è qua perfetto allora le altre gliele costruiremo a seguire per cercare di creare spazio poi si possono fare tante questa è una delle idee però si può si può mixare con la lead dietro e le doppie avanti per creare ancora effetti particolari si può creare la lead al centro e le doppie che gli girano intorno sono tante cose però in questo caso il predelemme serve per dare proprio profondità alla mia alla mia doppia di quinta ok ora stesso principio ho ricopiato un'altra strofa e ho trasposto questa questo ritornello di due semitoni perché questo e non di tre perché siccome il brano è in sol minore l'accordo di sol minore è questo questo è sol maggiore ok questo è sol minore se io avessi trasposto di tre semitoni avrei fatto l'accordo maggiore però sarebbe stato fuori chiave per cui ho trasposto i due semitoni e ho creato un'armonizzazione in modo minore non ci avrei mai pensato sai se ci ripenzo se ci ripenzo oia se ci ripenzo sorrido ogni volta che mi guardo adesso se ci ripenzo se ci ripenzo ok ora questa è una cosa molto interessante quello che ho fatto qua vi faccio notare una cosa guardate come si allontana la sorgente man mano che io aggiungo riverbero naturalmente questo è un esempio molto veloce per farvi rendere conto di come si può giocare con i riverberi per mixare e dare profondità tutti quanti sanno che i riverberi sono profondità principalmente i riverberi si usano per fare questo e chi non usa i riverberi per fare questo ragazzi è uno che non capisce un cazzo di mixing che se tu mi usi i riverberi solo per creare effetti non ha senso i riverberi devono essere utilizzati per creare questo movimento all'interno del mix e si evince da qui come una quantità di riverbero maggiore sposta la sorgente indietro rispetto all'ascoltatore e questo è il bello e anche il brutto dei riverberi perché se non si impara ad usarli bene si creano questi tipi di errori cioè che la sorgente viene spostata troppo all'interno del mix e quindi si perde però allo stesso tempo la giusta dimensione riesce a dare quel tocco in più al mix che altrimenti non potremmo dare per cui i riverberi è una vera e propria arte una vera e propria arte di riverberazione che si impara col tempo però dovete capire a che cosa vi servono in questo caso la mia idea è stata questa il ragionamento è questo c'ho la lead principale che mi sta qua mi canta in faccia poi c'ho la quinta che mi sta leggermente dietro e poi c'ho la voce bassa la baritona che mi sta ancora più dietro è come se abbracciasse tutto il coro partendo da dietro ed è un'ideologia tra virgolette filosofica di mixare neanche tanto tra virgolette perché è così è una cosa che deve essere pensata quando voi utilizzate i riverberi dovete capire il perché dovete capire quello che state facendo e soprattutto avere prima in mente dove volete andare a parare e poi creare quello sulla vostra tela prete lei qua zero perché a me non mi serve creare spazio in questa traccia non mi serve creare spazio dietro questa traccia perché questa traccia è l'ultima l'ultima figura della della mia produzione è l'ultima immagine del mio quadro ok è lo sfondo quindi in realtà è lei che fa da profondità tutto per cui non ho messo parare lei perché non mi serviva altra cosa ho tagliato le alte perché voglio che sia un riverbero molto scuro che deve dare senso di spazio ascoltiamo tutto ogni volta che mi guardo adesso se ci ripenso se ci ripenso non ci avrei mai pensato sai se ci ripenso se ci ripenso e se ci ripenso sorrido ogni volta che mi guardo adesso se ci ripenso se ci ripenso non ci avrei mai pensato sai se ci ripenso se ci ripenso e se ci ripenso sorrido ogni volta che mi guardo adesso se ci ripenso se ci ripenso non ci avrei mai pensato sai se ci ripenso Se ci ripenso, se ci ripenso, sorrido ogni volta che mi guardo adesso Se ci ripenso, se ci ripenso, non ci avrei mai pensato Sai se ci ripenso, se ci ripenso, sorrido ogni volta che mi guardo adesso Cosa importante quando si fanno le armonizzazioni, specialmente in questo caso È trovare il livello giusto Poi questo qui è molto a discrezione dell'ingegnere Perché è un po' anche il marchio di fabbrica La mia ideologia è questa Se mancano, si deve sentire la mancanza Però se ci sono, non si deve sentire la presenza Nel senso Le armonizzazioni, background vocals, eccetera Devono essere dei contorni alla voce principale Però non devono assolutamente sovrastare la voce principale Devono aiutare la voce principale Devono aiutare il mix a crescere e arrivare al crescendo Però non devono assolutamente andarci sopra Quindi il livello deve essere in maniera tale che Devo sentire la mancanza se non ci sono Però se ci sono Devo fare in modo che esse siano accompagnate Che accompagnino tutto L'andamento del programma musicale Ma non lo copreno Facciamo veloce una B senza Aspetta un attimo Se ci ripensi Se ci ripensi Non ci avrei mai pensato Sai se ci ripensi Se ci ripensi Se ci ripensi Sorrido ogni volta che mi guardo adesso Se ci ripensi Se ci ripensi Non ci avrei mai pensato Sai se ci ripensi Se ci ripensi Yeah se ci ripensi Sorrido ogni volta che mi guardo adesso Se ci ripensi Se ci ripensi Non ci avrei mai pensato Sai se ci ripensi Se ci ripensi Yeah se ci ripensi Ok Notate come quando faccio a B Il ritornello muore Cioè il ritornello è fermo, è piatto Scompare Non dà quell'effetto di pienezza Quell'effetto di ritornello Che dovrebbe dare Perché nel ritornello Si sa che qualcosa Deve sempre succedere Altra cosa che Io farei È quella di Automatizzare un po' le cose Perché ci sono dei momenti In cui Qua ci sono già le doppie dietro Quindi troppe Non vanno bene Soia se ci ripensi Sorrido ogni volta che mi guardo adesso Se ci ripensi Se ci ripensi Non ci avrei mai pensato Sai se ci ripensi Se ci ripensi Ohia se ci ripensi Sorrido ogni volta che mi guardo adesso Se ci ripensi Se ci ripensi Non ci avrei mai pensato Sai se ci ripensi Se ci ripensi Ohia se ci ripensi Sorrido ogni volta che mi guardo adesso Ok Potrebbe essere interessante Fare questo effetto Perché in questa parte qua Ci sono già i cori A destra e a sinistra Belli aperti Quindi magari è un po' troppo Però Poi Questa decisione Scusate Va presa A mix finito Tutto il mix Poi si vede Fare Questi piccoli interventi Che creano movimento E creano particolarità E anche per stasera Ragazzi Abbiamo finito Avete visto come creare velocemente Delle armonizzazioni Con la Tune Senza ricorrere a tool Quali Melodyne Waves Tune Eccetera Eccetera O Cubase A Vari audio Mi viene in mente Però Si può ricorrere A fare l'armonizzazione In maniera molto veloce Usando Sempre e solo L'autotune Se siete interessati A argomenti Di mix Master Produzione Tra Pra Per R&B Eccetera Mettete Iscrivetevi al canale E azionate la campanellina In maniera tale Da Rimanere aggiornato Sempre Su tutte le nostre Novità Inoltre Se volete Candidarvi Per soffrire I nostri servizi Servizi Al Minerva Studio Noi ragazzi Facciamo questo Qui Al Minerva Studio Mixiamo Masterizziamo Produciamo I vostri progetti Voi Ci date i nostri progetti E noi ve li portiamo Al livello successivo In descrizione Trovate il link Per Candidarvi A tutti i nostri E il nostro servizio E E Sembra che anche per stasera Abbia detto tutto Dimentico qualcosa Per tutti i produttori Guardate che sul canale Stanno uscendo Delle nuove Serie Riguardanti Le produzioni Quindi Rimanete aggiornati E guardatevi Insomma Queste piccole Queste piccole chicche Dall'obbito E dal Minerva Studio È tutto Ragazzi Ci vediamo Alla prossima Ciao Chiuso nel Minerva Studio Cucino sto mix Cucino sto beat C'è l'obbito Fra dei muto Ti caccia la hit Ti caccia la hit